Siamo a Taranto, in Viale del Tramonto, a San Vito, e siamo in compagnia di Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Un paesaggio splendido, incantevole, la nostra Taranto che deve vivere di turismo, però noi spesso critichiamo la classe politica, i nostri amministratori, però ogni tanto, purtroppo, sempre più spesso, dobbiamo anche tirare le orecchie alla inciviltà dei cittadini. Accanto a noi, cumuli di immondizia. Irene Lamanna, il suo pensiero al riguardo? Il mio pensiero al riguardo purtroppo è diffusa questa inciviltà di molti tarantini, per fortuna non di tutti. San Vito è uno dei quartieri più attenzionati da questo problema e anche dalle istituzioni, perché essendo costantemente sul territorio posso assolutamente confermare che il servizio dell'AMIU da queste parti cerca di essere quanto più a disposizione del territorio possibile, però nonostante si sforzi di fare del lavoro che comunque in questa zona non dovrebbe fare, quindi la raccolta di rifiuti come questi che vediamo alle nostre spalle, si trova più o meno una volta alla settimana a dover raccogliere questa inciviltà. Che andrebbe, che va sanzionata, punita, perché io penso la pena, tra virgolette, ha sempre una funzione rieducativa, ma in certi casi l'aspetto sanzionatorio è importante, perché uno paga di tasca sua per quello che ha combinato e poi la prossima volta, la volta successiva, come si dice a Taranto, mette il sentimento, cioè capisce come comportarsi. Esattamente, è proprio così. Questo problema noi lo vediamo non solo in Viale del Tramonto, in tutte le zone un po' più buie, un po' più riservate, Viale del Tramonto, Anello di San Cataldo. E a proposito delle sanzioni mi sembra doveroso utilizzare lo sportello del cittadino per avvisare i nostri co-residenti che la Polizia Locale sta effettuando le multe, infatti proprio qualche giorno fa, lì all'Anello di San Cataldo, alcuni residenti sono stati sanzionati perché stavano lasciando il verde per strada in maniera incauta. Quindi, come poi tra l'altro stiamo vedendo anche per le strade, che insomma i ganci alle ruote delle auto, le multe, quindi probabilmente qualcosa si sta muovendo, qualcosa a nostro favore, quindi un invito ai cittadini di non arrivare a trascorrere le vacanze di Natale con una multa sotto l'albero, ma ad essere un po' più civili e rispettosi del territorio e delle proprie tasche. Anche perché poi quando andiamo al di fuori di Taranto ci sappiamo comportare e comportarci invece da villani, da vandali in casa nostra, penso che sia davvero una brutta immagine, per noi stessi innanzitutto e poi per gli altri.